Nella città degli Scacchi si avvicina il giorno dell'incoronazione del nuovo re. Nessun richiamo monarchico, semplicemente a maggio ci sono le elezioni e la sfida all'attuale sindaco Matteo Mozzo è partita con una mossa sorpresa. Marica Dallavalle, consigliere comunale, non tenterà il bis e si defila, lanciando un testa a testa fra Mozzo e Giorgio Santini. E già perché sarà Santini lo sfidante ufficiale con la civica marostica per tutti che si posizionerà davanti all'attuale scacchiera della politica marosticense per tentare lo scaccomatto. Noi abbiamo proposto una lista civica, noi siamo un'associazione che si chiama Marostica Partecipa, l'abbiamo proposta ovviamente a tutti, i gruppi consigliari di minoranza, con alcuni siamo in dirittura d'arrivo per poter fare una lista insieme. Siamo in dirittura d'arrivo e stiamo anche ovviamente estendendo un programma. Gli alfieri in questione sarebbero Maria Teresa Costa e Gianni Scettro, tesserati fratelli d'Italia che sono vicinissimi a siglare una larga intesa, mettendo come priorità il dialogo con i cittadini, la partecipazione attiva alla vita della città e l'obiettivo di rendere Marostica sostenibile e green. La nostra sarà una campagna tutta, tutta propositiva in modo concreto sui temi della città. Ma attenzione perché gli scacchi sono un gioco di strategia e di forza psicologica. Ecco che, ancora prima di iniziare, la campagna elettorale vive già di sussulti e frecciatine più o meno velenose. Dentro Marostica per tutti, che tra l'altro è il nome della lista che ho suggerito proprio qualche giorno fa a Santini, non ci sarà Marica Dallavalle e le persone che in qualche modo si sentono moderati, perché non ci sentiamo rappresentati all'interno di questa lista. Abbiamo lasciato il tavolo ieri, l'ho comunicato a Santini, non via telefono come fa lui, ma incontrandoci. Riteniamo che potevano esserci altri candidati più attenti a quello che sarà la città di Marostica. Deve essere riconosciuta alle donne il senso del limite. Le donne sanno quando fermarsi e quando passare il testimone. Adesso è il momento di passare al testimone, a energie e forze nuove. Questa è una cosa che Santini non ha capito.